Non sono affatto disposti a passare un'altra domenica ostaggio di auto, smog, traffico ed inquinamento acustico. Quello che si è verificato domenica scorsa dalle 9 alle 19 in questa strada, dove veniva deviato il traffico in direzione Ancona proveniente da via Papiria, non siamo disposti a tollerarlo ancora, ci dicono molti residenti. Domenica, come mostrano le immagini girate proprio da loro, via Don Gentili era un lungo serpentone di auto incolonnate con il motore acceso e che procedevano a singhiozzo rendendo l'aria irrespirabile. Tolgono le polveri sottili dal centro e ce le prendiamo noi, non siamo cittadini di serie B, ci dicono, e la nostra salute vale quanto quella dei residenti della zona incriminata. Era una sezione, un'aria irrespirabile, macchine ferme perché trovavano l'imbuto in fondo alla via, inquinamento che è stato tutto su questa via, è stata la via principale dove è stato deviato il traffico proveniente sia dalla zona di via Roma che dalla zona di via Papiria. Ora ad oggi, salvo decisioni nel corso della settimana, la domenica ecologica del 2 febbraio è confermata, come anche la viabilità alternativa predisposta e quindi ciò che si è verificato domenica scorsa qui potrebbe riaccadere anche la prossima, ma i residenti sono pronti ad opporsi anche con decisione. La domenica prossima noi chiameremo i carabinieri perché sicuramente le polveri sottili che abbiamo già supportato la domenica precedente non si debba ripetere assolutamente la prossima domenica. Ma oltre che protestare i cittadini propongono visioni e soluzioni alternative a questa presa dall'amministrazione che non ha portato ad un nulla di fatto. Io seleziono il traffico, lo fermo il traffico che viene dalla superstrada che deve andare a Pesaro, lo posso inviare tramite le opere compensative sulle strada adriatica, quindi verso sud per riprendere l'adriatica per andare a Pesaro. Quindi il discorso delle vecchie strade Flaminia e Adriatica oggi come oggi non avendo avuto alternative nazionali deve essere ripresa. Non si può, è assurdo trasformare una via nazionale, una viabilità nazionale e inserirla su una via interna. Una partita, quella dell'inquinamento ambientale, ancora tutta da decidere, da affrontare, per la quale in settimana sindaco ed assessori sono chiamati a decisioni importanti e forse anche impopolari. E qui in via Don Gentili i residenti sono in allarme. Anche uscire di casa era un problema. Sì, sì, bloccati noi non sapevamo da che parte uscire veramente. E poi, insomma, è peggio che quando c'è il carnevale.